L'unica cosa certa era per me, da quando ero ragazzina, che pur avendo le idee molto confuse avevo la necessità di esprimermi, sentivo fortemente la necessità di esprimermi e dovevo trovare però la via, il modo, la strada. Quindi gli anni dell'adolescenza sono stati anni molto difficili di ricerca di questa strada. Quello che posso consigliare è quindi a ragazzi che vogliono cercare la propria strada nel mondo del teatro, comunque del cinema, dello spettacolo è quella di individuare prima di tutto qual è l'energia che li spinge verso il campo proprio dell'azione teatrale, della vita sulla scena. Deve essere un'energia molto forte, molto molto forte perché le difficoltà sono molte ed è facile perdersi d'animo. Ma quando finalmente, come per me è successo, si arriva a un punto in cui il desiderio coincide con una realtà lavorativa, cioè un fatto proprio concreto, c'è anche una grande gioia che ripaga di moltissime difficoltà. Grazie. 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 Grazie.